Sei pronta a seguire il puntino? Sì! Vai! Sì, let's go! Spostati davanti, se no non parte. Aspetta. Segui, segui! Eh, però non devi strisciare sulla televisione. Vai, vai, vai! Piano! Cri, cri! Oh! Ok, attoiti davanti. Vai, vai! Vai da dietro, dietro a Christian, vai da dietro a Christian. Piano, Cri, non si ha mai rompito la televisione, facciamola frittata. Perché? Piano, piano. Piano, piano. Quanto costa? Eh, tanto. Vai, insieme, insieme, tu e Gaia, vai!